Xiaomi Sbar Band 9 è arrivata ve la faccio vedere piccolo unboxing molto veloce non c'è detto niente quindi alla fine la apriamo insieme allora siamo qua al tavolo unboxing ho preparato una nuova postazione per gli unboxing molto più comoda e più economica e mi permette di fare i video prima perché prima dovevo montare tutto in cinema allucinato invece così è tutto molto più comodo con il solito cartoncino cavo di ricarica esattamente come quello dell'anno scorso e la band che quest'anno ho deciso di prendere in colorazione azzurra l'anno scorso ho preso la dorata ma sinceramente quest'anno mi andava l'azzurro e devo dire che è bello opaco l'anno scorso invece era lucido e questo devo dire la verità vi faccio vedere devo dire la verità mi piaceva di più la dorata lucida però va bene ok ragazzi è identica la forma è identica a quella dell'anno scorso poi la confronterò quando torna mia mamma delle ferie perché l'ho regalata a lei quella vecchia e confronteremo le dimensioni che faccio vedere qua ben vicino ovviamente abbiamo il solito sensore indietro il solito gancio che durava poco peccato perché intanto si scassano sempre questi e basta lo devo mettere sotto carica perché ovviamente è scarica va bene unboxing finito non ci ho detto più niente ciao alla prossima adesso la testo la tocchio e vediamo se ci sono differenze rispetto a quella dell'anno scorso non credo molte però vediamo